se l'avesse fatto al naso l'operatore sarebbe morto maestro darmi da fuoco reagisce a john wick matrix ed altri film parte 1 sul colpo qui tu dici perché non l'ha fatto al naso visto che si prepara a fare una carneficina cosa pensa un maestro darmi da fuoco quando guarda le sparatorie nei film scopriamolo ciao lui è francesco procaccini ex addestratore di operatori speciali ex guardia del corpo di vip e personalità di alto profilo insegnante di tiro operativo sia addestrato con i migliori istruttori a livello internazionale oggi è maestro di combattimento a mani nude all'arma bianca e con armi da fuoco e ha fondato la scuola italiana di difesa personale allora la tecnica che avete visto adesso è quella dei due colpi al torace e uno in testa è nata negli anni 60 diciamo e è detta mozambico drill siccome all'epoca c'erano le 38 special utilizzate durante la rivoluzione appunto in mozambico dagli europei che avendo a che fare con gente piuttosto dotata fisicamente questi non si fermavano ai primi due colpi e arrivavano a tu per tu con armi da taglio e colpiano lo stesso e quindi è stata studiata questa tecnica che adesso viene definita body body head ossia due colpi al torace per placare l'entusiasmo dell'aggressore e uno al cervello mi piace che me lo definisci tra l'altro di john wick ho visto soltanto penso è il primo e il secondo poi gli altri no con la pistola al fianco lui spara due colpi l'unico problema è che il primo lo spara in orizzontale siccome i proiettili tendono ad attraversare troppo avrebbe avuto rischio di sparare contro qualcun altro invece il secondo il secondo il terzo colpo lo fa con un angolo di 45 gradi verso il basso in modo che il proiettile attraversando il corpo poi si sarebbe piantato a terra utilizzare la pistola quindi proiettili passano attraverso il corpo a volta raga cioè me lo sono sempre chiesto come dipende dei proiettili dipende in quale parte del corpo spari no la cosia in un combattimento quasi corpo a corpo è una cosa che si fa probabilmente è l'unico modo di utilizzare la pistola considerate che da studi normalmente della fbi anche di altri enti americani il combattimento con la pistola avviene in circa la maggior parte dei casi ma stiamo parlando un 80 per cento dei casi intorno a tre metri massimo quindi tre secondi tre metri tre colpi quello che vedete qui che lui porta la pistola un po di traverso col gomito alto è l'evidenza che lui si è addestrato molto con il sistema car central axis relock questa tecnica come per peraltro il nostro sistema prevede il fatto di utilizzare di utilizzare arti marziali per evitare di essere disarmati e considerate sempre la massima che non è la pistola che protegge te ma sei tu che devi proteggere la pistola perché una volta che ti viene levata c'è la possibilità di ritrovarti alla puntata contro la manovra di per se stessa è molto ben coreografata e dall'altra parte nella realtà personaggi come del calibro di questi qua che sembrerebbero malavitosi russi sicuramente avrebbero fatto qualche esperienza diciamo presso e spiazzana che avrebbero insegnato loro a muoversi siamo argomentato e strategico in modo che mentre io sto sparando te qualcun altro tira su di me non avrebbe modo di girarsi su se stessa e sparare così libera a un certo punto joe che usa la pistola in maniera diciamo artistica lui all'inizio spara da sotto il braccio e poi spara dall'altra parte tenendo il braccio al corpo questa tecnica è tipica diciamo dei sistemi che utilizzano le arti marziali non sempre bene strano prendere una composizione preconfezionata per sparare di conseguenza evitare le proprie braccia stringendole al corpo è l'unica maniera per non spararsi da solo e attingere bersagli che poi non si pongono proprio in maniera frontale come è normale che stiano in una situazione del genere viene colpito e lui sotto la camicia un giubbotto antiproiettile quello che non si rialzerebbe così o sotto giacca dipende dal reparto dove si sta a tutti gli effetti in un gilet fatto normalmente o di kevlar o di nylon come avete visto ha fatto molto bene è caduto perché il proiettile non ti è traversa ma l'energia cinetica circa 600 joule te li prendi tutto e di conseguenza è come che ti danno una martellata sullo stomaco quel giubbotto alla capacità di disperdere l'energia cinetica su una superficie maggiore diminuendo la pressione quindi non viene attraversato però come giustamente ha fatto vedere john wick non è che è acqua fresca è realistico il fatto che lui dopo essere stato colpito subito riesce a rialzarsi e sparare allora c'è la possibilità di avere fratture però un operatore addestrato riesce a farlo esame di riparazione il primo tiro di precisione chi sarà il primo a rompere il bicchiere che ha in testa non si senta niente questo è james bond che pistola è quella che stanno usando sicuramente una pistola d'avancarica caricata sicuramente con polvere nera come funzionano queste pistole una pistola che veniva utilizzata quando non esistevano pistole a colpi multipli di conseguenza veniva caricato un colpo da davanti fatta scivolare in un cartoccio della polvere da sparo che veniva poi aggiunta veniva messa la palla messo un altro cartoccio e di conseguenza quando arretrava il cane che veniva liberato dal grilletto tramite una pietra focaglia si accendeva la miccia e praticamente faceva partire questa palla che partiva all'interno di una sorta di tubo metallico non come le pistole di adesso che hanno la rigatura quindi il proiettile si avvita per stabilizzarsi quanto è più difficile secondo te sparare con questa pistola rispetto alla pistola moderna allora questa è una pistola fatta a mano le pistole moderne sono controllo numerico hanno queste righe all'interno della carlton che permettono di essere particolarmente precise questo era un po un interno all'otto il difficile è che lui gli dà una pistola che non conosce di conseguenza non ha un feeling con l'arma di conseguenza non sa esattamente dove va il colpo come lo stress emotivo diciamo influenza condizione al combattimento assolutamente nel momento in cui si è sotto il sistema nervoso simpatico produce una quantità di adrenalina massiccia che va in circolo l'adrenalina fa sì che il sangue viene inviato ai muscoli vettorali le gambe eccetera 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 che sono deputati per la fuga per il combattimento no stavo mangiando i panini che ho appena finito meno male che ho mangiato veramente va a limitare devo lavarmi i denti adesso buonasera buonasera c'è credibile questo disarmo e assassinio multiplo allora il disarmo di per se stesso ci sta la cosa improbabile vedete avete visto quando lui si fa scudo con il corpo ok il signore ne spara con un mp7a con un calibro 4,6 per 30 mm dovrebbe avere una penetrazione di circa 40 cm in gelatina balistica l'unica cosa realmente improbabile è che ti riesci a fare scudo con un'arma del genere a quella distanza con un corpo umano ti posso dire se ci spieghi velocissimamente che cos'è un calibro sì allora molto semplice calibro 9x21 quindi i proiettili ipoteticamente della glock che vediamo l'impugnata allora il 9 mm chiaramente è questo diametro il diametro dell'ogiva il 21 è questa misura il bossolo alla spalla a 21 ma il primo colpo che è un colpo tradizionale di kung fu se l'avesse fatto al naso l'operatore sarebbe morto sul colpo se tu dici perché non ha fatto al naso visto che si prepara a fare la carina non avrei fatto diciamo i complimenti portare addosso tutte quelle armi è una roba fattibile allora quelle che porta addosso sono circa 15 kg di armi diciamo un buon operatore riesce a portarle con con discreta nonchalance quelli sono due mp5 kurz camerati in calibro 9 considerate quell'arma una cadenza di circa 800 colpi al minuto loro fanno un cosiddetto new york lead reload ossia non ricaricano le armi le gettano per un semplice motivo che ricaricare due armi è complicato cioè i due mani di conseguenza è impossibile impossibile in movimento diciamo un operatore serio avrebbe portato magari lo stesso due mp5 ma ne avrebbe utilizzati uno per volta si va qua e matrix devono far scena sento spesso questo rumore è quello purtroppo è un un bollino del cinema non si riesce a capire perché quel rumore tipico del carrello quando a rete rientra sia quando si arma l'arma non quando si tira fuori non quando si tira fuori né tantomeno quando si punta eh diciamo non fa nessun rumore eh esatto anche perché non sarebbe molto tattico un'arma che fa rumore quando viene passata ci sono penso non lo so dieci militari che sparano con dei mitra che non so che mitra siano sono m16 e 556 x 45 tutti quei militari o quei fucili che sparano verso una colonna ma non dovrebbero tipo sgretolarla allora per fare quel tipo di danno dovrebbe essere utilizzata una mitragliatrice calibro 50 che per farvi la differenza è una mitragliatrice che normalmente è un carro armato quindi paradossalmente si sgretola troppo si deve far scena queste sono due scorpion 61 camerate 7 e 62 x 25 se vai leggermente avanti ecco questa pioggia di bossoli potrebbe provenire da quei fucili con cui sparavano i nemici perché sono 556 x 45 e invece non credo non è questo capire perché hanno fatto una stupidaggine del genere quei proiettili non corrispondono all'arma che sta usando non si potrebbero proprio inserire in quell'arma tu fossi stato il capo dei diciamo dei cattivi come avresti affrontato a livello tattico avrei fatto del fuoco incrociato una benedizione perché queste armi che da soppressione soprattutto gli m16 hanno una cadenza di tiro intorno a 1.2005 colpi al minuto avrei creato un muro di piombo intorno a loro niente di questa terra sarebbe passata da quella parte ricordi quando ti ho dato quel biscotto sui set squad e pensa perché analizza tutto cambiare così tanti tipi di armi in così poco tempo se le conosci no non è un problema è come guidare l'auto tua e di tua moglie riconosci tutte e due quindi con facilità le cambi a livello di di mira oserei dire realistico come i pokemon perché nessuno è in grado di piazzare tutti i colpi lì dove ripiazza lui con armi diverse ma nemmeno se stringessimo il più preciso di questi fucili all'interno di una morsa che colpisce sempre lo stesso punto quale danni hanno una dispersione intrinseca dovuta alle parti in movimento che ci sono e anche gli effetti termodinamici quindi nessuna arma può sparare così preciso giaco sparatoria la tarantino mi piace esistono veramente questi sistemi di estrazione automatici dalla manica ed esistevano per una semplice molla con un braccio diciamo più o meno di metallo porta a disposizione un'arma piuttosto compatta come vediamo in questo caso del tiratore che arma è quella è una derringer cazzo piccolina spara due colpi era una pistola dell'epoca utilizzata soprattutto quando andavano male le partite a poker cosa non ho saputo resistere un colpo di fucile a pompa ti scaraventa così lontano ti vorrego un pizzichino quello non è un fucile pompa ma è una doppietta canne mozze ad avancarica no per principio di azione e reazione qualsiasi cosa che può essere un pugnata non ha quel tipo di potere per un semplice fatto che pure tu veresti sbalzato alla stessa distanza in cui avverato quel tipo di porto che vedete diciamo alla persona che viene disarmata e viene definito mexican carry permette un'estrazione samurai giuro che cazzo vuoi oggi da lato però ti espone anche ad essere disarmato facilmente diciamo questa è una prerogativa del film nell'epoca avrebbero portato una sorta di anello di pelle che teneva la pistola ancorata col cane alla fondina e queste pistole come funzionano queste pistole praticamente hanno la parte il cane che è quello che viene tirato indietro fa girare il tamburo e quindi ci mette un'altra cartuccia all'interno della camera problema di queste armi e da lì l'esigenza di portarne di più che per ricaricarle non sono come quelle da adesso clic clic hai finito quelle lì dove dovevi aprire levare tutti i bossoli e poi uno per uno rinseriti i bossoli non sembra che loro prendano la mira quindi sparare in questo modo è una tecnica esistente o è più scenografico che altro allora è una tecnica esistente che salva la vita e prevede una cosa mi sono persa animale superiore a scusate cosa è successo ma levare tutti i bossoli e poi uno per uno rinseriti i bossoli non sembra che loro prendano la mira quindi sparare in questo modo è una tecnica esistente o è più scenografico che altro allora è una tecnica esistente che salva la vita e prevede una qualità che l'uomo e ogni animale superiore hanno che si chiama kinestesi cinestesi o proprio scettività del corpo proprio scettività che si mette così in prossimità della preda è la stessa cosa faccio un esempio se io punto te col dito è chiaro che sono molto preciso col mio dito se mi addestro a sufficienza con le tecniche giuste con l'allenamento giusto sono in grado di puntare nello stesso modo in cui punto il dito geometricamente la pistola contro di te dal fianco da metà a distanza a questa o a questa come faceva john wick si è in questo momento che prima giang ha usato i cadaveri come diciamo riparo di fortuna una cosa veramente funzionale nel caso nostro la legge italiana prevede che un 9 per 21 di fabbricazione italiana fa 40 centimetri all'interno di gelatina balistica o 20 centimetri all'interno di che cazzo è la gelatina balistica il pino essiccato e questo è strutturato per fermarsi il prima possibile un proiettile dell'epoca che era più lente più pesante e non avevano chiaramente nessun interesse a farlo fermare sicuramente avrebbe attraversato il corpo soprattutto a quella distanza il giango sarebbe morto stramorto grey man madonna anche questo film pazzesco ma perché c'era angosling ovviamente per tutti i film del mondo quando ci si spara si usano le automobili per ripararsi fondamentalmente capisco lox in qualsiasi tipo di una sostanza di ponte considerate questo che gli unici punti in cui è possibile ritirarsi dietro un auto e dietro il blocco motore parzialmente dietro i cerchioni quando vedete i film soprattutto un po datati aprono sport a lì poliziotti si mettono a cavallo quello sarebbero sforacchiati come se non c'è fosse un domani da qualsiasi tipo di calibro questa modalità di caricamento è credibile c'è possibile oppure fantascienza il caricamento l'ho fatto molto bene è chiaramente previsto in ogni tipo di combattimento ben strutturato perché c'è sempre la possibilità di rimanere feriti quindi una mano non funzioni più e quindi c'è la possibilità sempre di ricaricare di ricaricare ed armare l'arma in maniera alternativa con una mano sola potesse può essere usata la cinta si ho visto mille volte così bello sto film molto bello consiglio se non l'avete visto greyman quanta è la probabilità di farsi saltare una mano rispetto a liberarsi e basta empiricamente ci sono dei pazzi che lo fanno non è detto che funziona il primo colpo c'è la serie possibilità di venire feriti dalle schegge in questo caso è andato tutto bellissimo diciamo e poi è una situazione disperata quindi uno dice o fai così o fai così ci avrei provato assolutamente anch'io perché comunque la situazione lo richiedeva per così dire qui grazie mille per averci spiegato tutte queste scene legate alle armi da fuoco ma se qualcuno volesse approfondire la conoscenza delle armi da fuoco delle tecniche di combattimento cosa potrebbe fare? potrebbe venire presso le nostre scuole ci chiamiamo scuola italiana difesa personale siamo abbastanza presenti sul territorio e trattiamo dal combattimento a mani nude al combattimento con armi da taglio ci andrei subito fino ad arrivare chiaramente al combattimento con le armi da fuoco lunghe e corte quindi grazie mille non so se i caricatori ce li puoi lasciare magari passa a riprendere più tanti grazie grazie a voi arrivederci quindi ragazzi questa era la parte 1 del nostro maestro darmi da fuoco che reagisce a cena di fisica ma uscirà la parte 2 prossimamente qui molto figo il video ci vediamo anche la parte 2 ragazzi fighissimo samurai ha le unghie così lunghe che se le sta conficcando nella mia gamba adesso però io devo lavermi i denti straveloce perché ho mangiato figo vero si è proprio sdraiato ora ci troviamo vicky in italia per la difesa personale con le armi da fuoco si ciao